E frazione furto questa notte per il barcaffè Alba Chiara lungo la provinciale delle miniere a Cavriglia all'interno dei confini della frazione di Meleto. Le telecamere del distributore di benzina che condivide il resede hanno evidenziato a due persone che attorno a mezzanotte e trenta sono scese da una vettura impossibile di salire alla targa per il momento di colore chiaro ed armate di mazza hanno sfondato il vetro dell'esercizio. Qui poi hanno provveduto ad asportare l'intera cassa nonché a rubare tutte le stecche di sigarette presenti provocando anche danni distruggendo gli scomparti dietro al bancone del bar. I proprietari sono stati avvertiti dall'allarme immediatamente scattato ma l'azione è stata fulminia tanto che al sopraggiungere del luogo anche degli uomini del 112 non c'era più alcuna traccia dei malviventi. Da quantificare il bottino anche se per il bar stesso è il quarto furto subito negli ultimi due anni in maniera analoga. Stavolta nella fuga ai ladri è anche caduta la cassa stessa, molte monete sono state quindi abbandonate a terra. Le forze dell'ordine stanno appunto studiando le immagini di videosorveglianza per cercare indizi utili alla cattura dei due.